questo faglielo fare cioè durante l'addestramento non il ring se lui è felice se lui è felice che gioca faglielo fare in maniera che lui lo prende come una cosa esatto poi dopo andiamo a correggere il fatto che saltella eccetera eccetera facciamone uno buono bravissimo questo cane bravissimo questo cane non giochi più non giochi più vai dalla mamma sei preoccupadissimo stai bravissimo a una cosa